Renzi non deve giocare, non deve stravolgere, era un invito a confrontarsi con i percettori di reddito senza filtri, venire qui a parlare con le persone, ma parlare anche al Lord, dovunque, perché i percettori di reddito sono dappertutto. Confrontarsi con le persone che sono veramente in difficoltà, era questo. Poi che lui lo voglia strumentalmente e polemicamente leggerlo come un invito alla violenza e una sua iniziativa gratuita che assolutamente lo contraddistingue, non è la prima volta che riesce a stravolgere al suo comodo esponsumo.